No, questo è cazzosando. Che è questo, quindi? Cazzosando. Bravo, bravo, bravo. È ruvida, però. Io mi nutro della bellezza dei panorami giapponesi. Il vento nello scincazzo. Salmone grigliato. Salmone grigliato. Poi invece? Non cazzo. Il tart? Invece che hai preso? Molto fritto. Masseniano? Carne. Era buono? Buonissimo. Bello, Lorenzo. Bello. Molto bello. Questo è quello che ti ho consigliato io. Questo l'ho preso 200 volte. Questo è buono. Che grande, eh? Deve andare a mangiare un bordello. Simona? Buonissimo. Che allergi al dashi. Allergi al pesce. Sì. Sono sopravvissuta. Buonissimo. Sempre toncazzo abbiamo. E ti invece? Che hai preso? Ho preso tutto che hai detto tu. Ah, sì, scusa, quello che ho preso io, sì. Quello che hai preso te. Invece li vedo dei panini. Quelli mi piacciono un sacco a me, questi panini, eh. Questo è roba da ricchi, infatti l'ho preso anch'io. Roba da poveri. No, questo è cazzosando. Che è questo, quindi? Cazzosando. Cazzosando. Bravo, bravo, bravo. Oishii. Ci vediamo al prossimo video da Giappone. Salutate voi, vai.